Lo sai perché le bottiglie sono da 0,75 e non da un litro? In realtà è perché i più grandi commercianti erano inglesi. Gli inglesi misurano in galloni. Due galloni di vino inglese, anglosassone, che significano 9 litri di vino, diviso 12, perché 12 sono gli scomparti per le bottiglie, fa 0,75. Questo è il motivo per cui si usa la bottiglia da 0,75. Grazie a tutti.